Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e oggi siamo qui con un altro challenge con la Ceccia e la Lisa Ciao Cosa abbiamo qua? Cosa hai detto? Cosa abbiamo qua? Cosa abbiamo qui? Abbiamo qui la Lisa, la Ceccia e Luca Ha il materiale Ah, il materiale, abbiamo dei bellissimi cappucci No, le cuffiette Ah, scusate, le cuffiette Non quelle per andare in pescina Esatto, brava Lisa Queste cuffiette che cosa chiamano? Hanno dei punteggi Sì, hanno dei punteggi Hanno 200 200 quello dietro però Esatto Quindi sarà presto che è impossibile E anche 50 E ci sederemo lì in quella sede lì E ci metteremo la nostra ruffietta E gli altri dovranno tirarci queste palline che si attaccheranno E poi si vedrà chi farà il punteggio più alto Così, guardate 3 3 Grazie allo stampo Bene ragazzi, adesso possiamo iniziare Sì La prima vittima sarà la Ceccia Vai vittima Spirittoso Milano come stai? Starò bene Potrei andare in doccia In doccia Vado a farmi una bella mutata Camminando però Camminando Ok, ci sei? Sì Come sto? Bello Angolino Angolino, no Aiuto, povero a me M'hanno messo in castillo Tirate piano, eh Ecco Sì, sì Mi raccomando Mi raccomando Mi faccio vincere C'è il bocciante tu davanti No Mi dovrebbe star dietro Allora l'ho sbagliato Mi sei raccolto solo io Non lo so No Bravo che l'hai detto Grazie Luca Mi ha detto uno di più in camera Però, vedai Sì Le palline cadranno a terra Rifaremo il tiro Ho paura Via Non mi rossa Eh Aspetta Non mi rossa Eh Aspetta No, è vero Non conto due Devo ripare Ahah Aspetta No Uuuu 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 E' un po' Ti ha detto Ti ha detto Ti ha detto Ti ha detto Dai Eeeh Ma non è appiccicato No Ma cos'è sta storia Eh, ci sta perdendo Troppo un gusto È vero Eh, esatto Ho ragione Anisa Cicci Sì Ma quando è un attiviso di là Ah, guarda c'è un bellissimo piccione gravissimo Oh no Bellissimo Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Ma c'è lei con me? Basta Avivi solo tre tiri Ma insomma Non c'è Beh No, non c'è Avivi solo tre tiri Luca 150 Bravo No Era il 200 Povero me Ok Ok ragazzi Adesso tocca alla Lisa E tirerà lei Pipa audos수 lobster Sì Ma Lisa tira forte Mi raccomando piano Ahahahha Non mi aveva colpito Wah no Quasi 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 Un muro Mi stai facendo Ho tirato i capelli metto io ho tirato i capelli sempre stai a palla a volo in acqua esatto a palla a volo a palla a moto comincio io ottimo lavoro sì 1,2,3 hai la testa 1,2,3 quasi grazie lisa guarda eh 200 200 150 ottimo 1,2,3 le miei nemici 1,2,3 girati di la bravo 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 non ho fatto male Luca girati ancora mi hai fatto spararla eh tirati vanno dai giù yeah guarda vanno vi ho fatto vedere come sei bello si è sei bellissimo eh con i tre le tre palline con i tre palline con i tre palline ecco si è vero hai fatto 200 ottimo bella storia 200 puntis 100! 100! Dino Lisa! Pam! Pam! Gira qui! Gira qui! Gira qui! Questa palla è perfetta! Brava! Gira a sinistra! Brava! Gira a sinistra! Brava! 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 Grazie! Masta questa Lisa! Devi tirare anche questa! Aria! Aria! Piano! 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 Te sbagli la testa! Troppo piano! Grazie! 100! Guarda lì che bel quadro! Oh! No! Ahahahah! Ahahahah! Eh! Bravissimo! Stai beccato! No! Mannaggia! Oh! È così! Certo! Comida la vita è! No! Non va bene! Sì! Certo! Non lo vada! No! È 150! Certo! 250 di prima! Non è più! 500! No! 500! Non è valido! No! Non ci sto! No! Non ci sto! Adesso te la metto! Io non lo scrivo! Ahahah! Raga! Dove siete? No! Adesso! Dove siete? Adesso! 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 Non lo so! Non lo so! Non lo so! Adesso! Non lo so! 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 È un pacco regalo! Adesso! È così! È originale! Ecco! Il classico pacco regalo! Ceci! Ve lo spediamo! È fatto! dove siete? non l'ho capito che hai fatto? dove siete? non ci siamo sono andati via in messico se stavano in palino me la lancia addosso e che si vede tutta addosso dove siete? brutti bene ragazzi è finita mi raccomando iscriveteci qua sotto con un commento altra challenge che vorreste sul canale e mi raccomando iscrivetevi al mio instagram mi troverete qua sotto in descrizione lucazinweb e anche al mio canale mi raccomando attivate anche la campanella per nuovi video e allora ragazzi ci vediamo nel prossimo video e ciao per lì ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti